Nell'episodio di oggi dobbiamo finire il calciomercato Nello scorso che vi invito a recuperare In caso ve lo foste perso Abbiamo fatto un bel po' di acquisti Ma soprattutto abbiamo ceduto Un pochettino di giocatori in prestito Abbiamo tagliato un po' la rosa Soprattutto dobbiamo tenere D'occhio, ecco, Madana in prestito Si è già fatto un più uno di overall Ale, via Quattro settimane l'abbiamo ripreso Più due per Alagic Ma io ero interessato a vedere Ildiz Che in due settimane di prestito Si è fatto più tre di overall Bene, comunque come potete vedere Abbiamo alleggerito un pochettino la rosa Però, visto che ci dobbiamo giocare la Champions Bisogna avere una squadra bella lunga Quindi, un altro mediano Dobbiamo dare via assolutamente Stensness O dovrà fare la panchina tutto l'anno E forse io andrei su un altro terzino sinistro La cosa interessante, però, che vorrei fare oggi Prima di cominciare a fare gli acquisti Vorrei andare a vedere i commenti che mi avete lasciato Nell'episodio precedente Per capire i nomi che mi avete consigliato Così vi leggo anche Chi abbiamo comprato? Quindi non guardiamo solo le uscite Ma bensì anche le entrate Perché abbiamo fatto un ottimo mercato Secondo me Allora, è arrivato Macheda Ma che acquisto è? Ma che acquisto è? Ah, dobbiamo prendere anche un secondo portiere Ma che acquisto è Macheda? Poi abbiamo preso Il Reggendi Diamanti Quindi Sorrentino Diamantino Abbiamo andato via Diez E poi abbiamo preso Yasuda Dagli svincolati Che è il Connazionale di Busuki Perché mi serviva un difensore centrale E Yasuda è il Reggen di Yoshida E quindi Così È andato È andato anche Rodriguez Delianov non si sa perché è andato al Norwich Ben per lui E basta E basta Abbiamo andato via un po' Gli giocatori della primavera Io ero un grande fan di persona Di fan Di persone Quando ero giovane Ora sono un po' perso Ma se fosse diventato quello Ci aspettavo La fascia destra Sarebbe stato suo Persin Invece un td destro Titolare Un difensore Sinistro Mancino per la Juve Dell'anno prossimo Un td destro Titolare Eh Buchanan Io ho qualche dubbio Dal punto di vista difensivo Ciao Zalone Sì ho visto In vino Veritas In bagno Badidas Nel All'Adelaide Fabregas Va bene Ciao Emma Allora Se noi andiamo a vedere I commenti sotto Ho visto che In un paio Di voi E Gli stessi commenti Hanno anche Discritti Numeri di mi piace Mi avete consegnato Un mediano Che potrebbe Avere senso Qui parliamo Di esperienza Parliamo Di tanta Esperienza Victor Wanyama 32 anni In questo momento Si ritira Eh Niente Wanyama Saluti Saluti Peccato Perché sarebbe stato figo Sarebbe stato sinceramente figo Ciao Pale Puttana Era bello Secondo me Wanyama Ragazzi Eh Io sono un bel giocatore australiano Che puoi metterlo Cc Che è Rilei McGree Del Migles Blau Sblau Rilei Eccolo qui Rilei McGree Australiano Noi lo mettiamo a seguire Trenta e più giorni Alle Don Gianni E vediamo un attimo cosa succede Secondo l'Australiano A sto punto Vabbè Fica Chiappetta Fica mi sembra abbastanza marcio Devo ammettere Però Per quanto riguarda invece il ruolo di portiere Nikita Fedotov Del Ponferradina Effettivamente Il Buon Fedotov ha 23 anni però Attenzione Il buon Diez L'avevamo preso dal Ponferradina Visto che Manca un po' di Spagna In questa squadra Vediamo un attimo il Ponferradina Cos'ha da Offrirci Perché mi piacerebbe Creare una sorta Di gemellaggio Con il Ponferra Allora Ab De San Roman Fedotov Non so se Fedotov verrebbe Dico la verità San Non so chi è il titolare Non so chi è il titolare Sulla sinistra abbiamo Castelliano Sarà il titolare O Delgado Boh Castelliano però mi sembra che C'abbia una faccia sveglia Quindi lo mettiamo a seguire Castelliano Castelliano Non ha proprio la faccia sveglia Ma va bene lo stesso Castelliano Dai Gagliardini Non lo voglio No No Per la Mediana Avevo inserito sempre Questo Medina Ogeda Per l'attacco Questo Arias Vabbè Non mi serve Un attacco Devo ammetterlo Però questo Arias Lo voglio tenere Sott'occhio Castelliano Castelliano Io non lo so Secondo me è perfetto Per la nostra squadra Non so perché ma Ho questa impressione Prova a importare La loro formazione Così vedi chi giochi Oh madonna mia Vabbè Staminich Tette da prendere Eh lo so Ma che da in Australia È maledettamente realistico Lo so Lo so Lo so Vabbè ma Podolski Non credo Esista ancora Ma ragazzi No 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 Ecco Guardate Emanuele Ecco Questa è una cosa Che mi Non mi piace Emanuele mi fa Mezzo di consiglio Uno dei giocatori Più esotici Che conosca Si chiama Temel È turco E ci potrebbe stare Per continuare La solita tradizione Tra i quartisti turchi Ah la cosa più importante Da cdc A cc Fa più 11 Barra più 12 Benvenuto sul mio canale La prima ora non conta L'altezza Mediano spagnolo Baicetis Eh ragazzi Allora Baicetis sicuramente Però Io sinceramente Non me la sento Cioè sarebbe Un colpo incredibile Ma non me la sento Non me la sento Un giocatore Che ha avuto Sta avendo Buona fortuna A Liverpool O comunque Insomma Ha iniziato un percorso A Liverpool Interessante Non mi sentirei Sinceramente Di toglierlo Da quella squadra La Champions Cambio La squadra Sempre al top Giusto vendere cavallo Per vendere Per prendere fica Ormai sei in ballo È un peccato Andare via in Champions Compra qualche Svincolato Gli assudo Era svincolato Vabbè Pochi altri nomi Intriganti Karastich C'è nel lab Mercato Insomma Cerca un giocatore Giovane Non ho capito No Sinceramente no In Australia Qualche giovane Può venire Ma deve essere Veramente un po' Un po' Marcio Cioè nel senso Adesso io andrei A prendere uno spagnolo Però Se penso a Baicetis Cioè io Qui voglio fare Un progetto abbastanza Realistico Nei limiti Diciamo così Kiko Makeda Ci sta tutto Visto che L'Adelaide Aveva Qualche uomo Spagnolo Vorrei mantenere Questa Diciamo così Ideologia Baicetis È spagnolo Però Onestamente Non credo che Dal Liverpool Si voglia trasferire Da noi Pochi altri Avevamo messo Rivolto Un difensore Centrale Castellano La faccia Sveglia Ecco Pampin Pampin Forse lui Ci potrebbe anche stare Ci sono un po' Di più Carlos Romero Cioè tipo per esempio Un giocatore del genere Carlos Romero Che fa la fame Al Villareal B Ci potrebbe pure stare Non è Imprendibile Poi c'è questo Delgadino Che non mi dispiace Quel David Lopez Ex Napoli Che fa Madonna mia Ho un po' Paura Ricky Pugge Un portieraccio L'avevamo già cercato Un portieraccio Un secondo portiere Spagnolo Ragazzi Non me lo ricordo Forse sì Madonna è spagnolo Pensavo fosse Portoghese Sì mi sa che l'avevamo già cercato Ma non c'era niente di che A Senco Pernabè Un giocatore Che ormai ha finito Un giocatore Che ormai Che ormai ha finito Se chi ha finito Non lo so Ho finito di cucinare Alla pasta E schieta Fernando Questo non può avere Trent'anni Claudio Bravo Esiste ancora? Mi sa che Ma c'era Claudio Bravo Scusatemi Ma no Ma non esiste Claudio Bravo È cileno Ma dove cazzo Non lo gioca Claudio Bravo Non me lo ricordo No infatti Non c'è più Ochoa Reina non c'è più Reina non c'è più Purtroppo Dove giocava Reina? Vabbè Non andiamo a prendere Reggian di Reina Dai Come TS Le cue Dell'atletico Masuaku O Bruno Perez Che incubi Che mi sono Saliti Alla lettura Del nome Bruno Perez Incubi Con un po' Di brividi Chico Casiglia Chico Casiglia Ma c'è Chico Casiglia Ma dov'è Ho bisogno di qualcuno Che mi stimoli Ho bisogno di qualcuno Che mi stimoli Guaita mi stimola Guaita mi stimola No Ritiro Si legge Si ritira Volevo dire Non mi stimolano Aume Gioca No Gioca Ma Mardashvili Aume Ti va di fare Il secondo da me Mamma mia Dai Lisoine Contattato da Colorado Rapids Ma come Colorado Rapids Lisoine Ci stava Perfetto Ex FC Andorra Se Secondo me Santi Casarola Si è ritirato Masip Mi sa che Masip Gioca All'Ausburg Nadal Però Raton Mamma mia 38 Andee Seggiorico Mamma mia Robles No ma Scuffette Ci sta Ragazzi Ci starebbe Anche Però vorrei Uno spagnolito Vorrei Uno spagnolito Yoel Yoel De Leibar Dai Olè Asenko Campa ancora Asenko Campa ancora 34 anni Alvaiadolid Buttiamoglielo Dentro Kiko Casiglia Però Non mi pare Di averlo visto Sicilmente Ragazzi Dove è andato A finire Ma Casorla Invece Dove dovrebbe giocare Casorla Come si scriveva Casorla Casorla Non me lo ricordo Ma basta Sono già nel labo Mercato Falzi Si è ritirato Beh Scuffette Mi piace Scuffette Mi piace Però scuffette È un peccato Forse non usarlo Dai Allora Scuffette Solo se va via Guccio Gallese Però Gallese Fa il secondo Ragazzi Gallese Mi è titolare Nell'Orlando Bravo Non c'è Vediamo se c'è Qualche portiere Di schifo In MLS Vediamo Poca rera A me piacerebbe Prendere Crepù Come il secondo Crepù Non gioca più È ancora spappolato Mamma mia Guzan Porco Ritiro Portieri Che si ritirano A 34 anni No Dai Mechmet Però ancora Di isolare Lui è Salt Lake Maurer Oh Bello Maurer mio Mamma mia Ragazzi Che portieracci Che portieracci Panico Bootland 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 è veramente una pippa È diventato Si sniega Avevo letto tutta altra roba Avevo letto si sega Se proprio devo dire la mia Takaoka Takaoka Dei Whitecaps Ok Bene Basta Andanovic Gioco Non lo so Non lo voglio sapere Borjan No Borjan No Basta Vediamo Bootland L'ho scappato di casa Jack Bootland Trent'anni Sarà svincolato Mamma Che finaccia Che finaccia Avanziamo un pochettino Ah Qualche Della serie B italiana Come portiere Va bene Non so perché Ma ci sto La Tarussano Bolletta Non c'è che cosa si chiama Bolletta Ragazzi Ma che incubo Ma che incubo Bolletta Ma che incubo Cragno Ma che finanza Hai fatto anche te Ah ecco Lui volevo Ma no Porca miseria Lui era forte Guadagno Bolletta Grotta Se non guadagno E non pago la bolletta Vado a vivere una grotta Tiè Mi ha fatto una storia Graficas Leali Ma Lezzerini Può giocare Con l'occhio Storbo Bocarius Mi piace Basta Ecco Questo è esattamente Il nome Che doveva Di cui avevo bisogno Per Per scaldarmi il cuore Basta Basta Con lui viene anche la diletta Preso Karius Non so Allora aspetta un secondo Doppio Doppio acquisto Doppio acquisto Allora 3 6 Sì abbiamo tempo per riprovarci Vediamo eh Vediamo Vediamo Karius Un fallitissimo Karius Pare che questo giocatore Non si rispondeva Vergognati 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 Karius Vergognati 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 Sul mercato in scadenza Ma non si vuole trasferire Ma che cazzo gli dà la 37k Le ali Credibile perché ha giocato anche in Grecia e Belgio Madonna le ali che finaccia Vai 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 le ali mi piace E Cordas ci ha provato Le ali Madonna rasato Pilato le ali Hai perso tutti i capelli Come passa il tempo Come passa il tempo Nico Mannaggia miseria Oh Dragovic si è levato dalle balle Perfetto finalmente C'ha messo un episodio lo scorso per andare in prestito Ma va bene lo stesso Ma io non credo che Stechelenburg ci sia ancora Penso si sia ritirato la prima Ciao Drago In prestito al Benevento Spettacolare Spettacolare Drago Drago non lo voglio più vedere nella mia vita Ma Stechelenburg Io non ci posso credere Ma no infatti Bettinelli Ma che cosa Non credo Marcus Brighitti Ma chi è Brighitti Oddio Ma chi è Brighitti Ma non c'è neanche nel gioco Stechelenburg No ma Krul Krul ci avrà pur 45 anni Scusate Tutta sta gente Tutta sta gente Tutta sta gente Tutta sta gente che si ritira Ciccizzola Simpatico Ciccizzola Birighitti Ah Birighitti Eh ma sono un coglione Birighitti Ma no Ma no Ma no Ma no Ma no Birighitti Ma Krul mi piace comunque Lo buttiamo dentro se ci sono dei rigori Birighitti Che finaccia Che basta Basta Non voglio più inserire questa feccia di giocatori Non ce la posso fare Non ce la posso fare Ce la posso fare Ce l'ho preso Macheda A sto punto Dino Zeo Veramente Preso conto su Cabaglio Certo che Effettivamente Dar via cavallo Per cabaglio Non è male Goicocea Ho un po' paura Ah no Avevo letto No non c'è Que c'è Che finaccia Capino Capino era un portiere Che sembrava avesse un Un futuro splendente No Popovic All'antali Aspor Assolutamente no Gli ho dato il diz Non esiste Che vedo anche Popovic Fosse arrivato un europea Però per Popovic Ragazzi Ci si poteva fare Un pensierino Sinceramente Qui tra l'altro Siamo arrivati Nelle ultime 10 ore di mercato Con una nonchalance Quasi paurosa Però non è arrivato niente Non è arrivato niente Incredibile Comunque che i pezzi forti Della squadra Non siano stati calcolati Dal mondo È una cosa Molto molto particolare Allora Prima di pensare al portiere Pensiamo un attimo Al terzino Perché Madonna Karacic Si vuole trasferire Ragazzi Karacic Si vuole trasferire Sulla destra Noi abbiamo Letizia E Billy Però Eh Io sulla sinistra Volevo prendere Natta Però 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 Mi ispirava Sinceramente Un giocatore Del Ponferradina Che se vogliono Trasferire Qualcuno 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 Mi può dire Delgado E Castellano Quanto Overo L'hanno Per favore Se no Sulla mediana Di Spagnoli Che avevamo Nessuno Nessuno Lo dico io Nessuno Ha sempre Mediana del Ponferradina Con 68 1,76 Però Eh Ha dei begli occhi Ma non è una Una caratteristica Che può interessarci Castellano 66 Ciao Tre Tre tapacche Mortacci Luongo Per un anno Però Luongo Non volevo Prendere troppi Svincolati Sono sincero Luongo Era tanta roba Devo essere sincero Però Non voglio Esagerare Tutti e due 66 Non ti credo Sono perfetti Tra l'altro Sono più forti Di Kitto Che vergogna Che vergogna Come posso Abbonarmi Col Prime Devi prima di tutto Collegare L'account Di Twitch A Amazon Prime Se vuoi cambia un nome Perché Tetra pack Non tre tapac Mortacci tua Sio prete Mortimer Spagnolo Del Viborg Con ottimi dati di movimento Lo conosco Mortimer Pare che questo giocatore Non si deve trasferire Vergognati Umiltà ragazzo Umiltà 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 Barazzante Sti ragazzi Che non vogliono Fare i sacrifici Stamenic Allora Innanzitutto Andrei su Stamenic Per lo stesso ragionamento Che avevo fatto Nello scorso episodio Cioè Vedete Obi Non si vuole trasferire E c'è questa dicitura Stamenic Evidentemente Un piccolo trasferimento Lo vorrebbe Al Copenhagen Non sta giocando Vuole ripartire Dalla squadra Campione d'Australia Chi ci vieta Di prendere lui Mi dispiace un po' Per Fika Perché io amo Fika Sinceramente Lo apprezzo Tanto Però Cioè Però è veramente Una pippa Clamorosa Stamenic Dentro Eh lo so Che Eh lo so ragazzi Eh lo so ragazzi Che sarebbe stato bello Un Quadruplo colpo Fika Chiappetta Tette Pampin Però Però Io devo Devo giocarmi la Champions Quest'anno La Fika tira Ma Tira di più Stamenic Secondo me Proviamolo Proviamo Stamenic Proviamo Stamenic Bello Fisicato Al fianco di Irvine Una bella Una bella diga Stamenic Non lo so Andiamo Tentiamo Tentiamo il colpo Il colpo Stamenic Tentiamo il colpo Stamenic Allora D'altro abbiamo Un pacco e mezzo Di budget Mi piace Dopo avremo Sulla mediana Irvine Niuvenov Ed Arrigo Mediana Perfetta Tra l'altro Stamenic Non mi può neanche chiedere Cruciale O robe così Stamenic Te ne intendi di Fika? E Anche perché Proprio perché Ha gli overall Più bassi Proprio perché Ha l'overall Più basso Rispetto a Niuvenov Ed Arrigo Quindi Da quel punto di vista Come colpo Ci starebbe proprio Non ho altro Da dargli Perché Chi dovevo vendere L'ho venduto Quindi Oh Attenzione ragazzi Qui non posso Utilizzare la tecnica Nipalesi Del Della trattativa Inversa Perché potrebbe Saltarmi Potrebbe saltarmi Cazzo Ah Stensness Bravo Stensness Stensness Oh Stensness Alla pari Stensness Più il 5% Oh beh lì Però qui Però qui Però scusa Qui la tecnica Della Qui la tecnica Nepalese Si può utilizzare 6% Ci siamo Liberati Di Stensness Peggio Peggio Di un Tornato Veramente È stato Un acquisto Sbagliatissimo Premendo Aghiacciante Stensness Certo Prendiamo Stameniz Con la stessa Iniziale Subito Dopo la T Forse è proprio questo cognome Che porta sfortuna Stensness Stameniz Però Speriamo bene Turnover Ma 5 anni Tanto fra 5 anni Non so cosa succederà Marco Non lo so Non lo so Marco Non lo so Non lo so Marco Non lo so Ho paura Ho paura Che possa saltare tutto Posso saltare il banco 5-9 Dai Vieni Stameniz Bravo Marco Umiltà Ma è più grande È più alto Della porta Stameniz Fate le porte più alte Porca miseria Lo dico sempre Quando prendo la traversa Benvenuto Marco Stameniz Non abbiamo speso Un centesimo Prendeva molto Probabilmente Meno Di Stensness Credo proprio di sì E abbiamo rinforzato La Mediana Così anche Numericamente I Sam Ci siamo È nazionale Vabbè Insieme a Piscopo Stameniz Dove sei? Eccolo qua A proposito di Stameniz Che tra l'altro mi sale In maniera anche abbastanza rapida Devo ammettere Secondo me qui abbiamo finito Oh Con lo staff primaverile Allora Facciamoli seguire I boys Però scusatemi Adesso Non vorrei dire Una cattiveria Abbiamo sei milioni Ma cosa facciamo Li spendiamo Sti tre milioni Per la primavera O non li spendiamo Scegliamo Per quanto pensi Di cambiare squadra Prossima stagione Ma uno in Giappone Lo mandiamo Ma in realtà C'era C'era uno in Giappone Allora Devo ammettere Allora facciamo due Devo ammettere Che farò il sondaggio Per giocarci i gironi Se li passiamo Andiamo avanti Io farò il sondaggio Così la democrazia Sceglierà Marco però Hai 21 anni Vai a giocare in Australia Che di turnover Eh no Non è scarso Matthew Matthew Grazie mille per il Prime Benvenuto Chi è Tommy Tommy Ingram Democrazia non è la dittatura Ibuschiana Ma allora Forse effettivamente Tre milioni sono un po' tanti Effettivamente sono un po' tanti Prendiamo Prendiamo lui dai Prendiamo Leo Harris Sì magari Teniamoci i soldi Per gennaio Prendiamo Leo Harris Stiamo umili Mi sono fatto Prendere un attimo Perché mi fa cagare Yonder Sì Matthew Dai io prendo Matthew In onore di Matthew Che si è appena abbonato Io prenderei William Welsh Ascol Presta Prendere un attimo noti Chi è appena C'è appena Di B Tra